La moda italiana è un po' come il calcio ed esercita un'attrazione fatale irresistibile da parte di molti gruppi stranieri e infatti è recente l'accordo tra una stella dell'alta moda quale Raffaella Curiel e il gruppo cinese di Hot Couture Redstone. Noi abbiamo fatto una joint venture con il gruppo cinese Redstone, il presidente si chiama Mr. Zhao che era giornalista e che ha portato per prima una moda francese in Cina, che ha studiato in Italia perché conosce bene la cultura italiana e che si è innamorato della nostra storia di quattro generazioni e che ha comprato l'intera storia, l'archivio e che vuole continuare in questa storia con la congigliola che disegna il curielino che è una linea di che vendono già a Shanghai e poi a Pechino, l'alta moda con me e poi hanno intenzione quest'anno di aprire altri cinque negozi in Cina.